Nonostante il calo di sequestri di stupefacenti nel porto di Gioia Tauro, l'Andrangheta non sembra aver completamente abbandonato l'idea di utilizzare lo scalo gioiese come punto di riferimento del traffico della cocaina. Nei giorni scorsi, infatti, è stato intercettato un nuovo ed imponente quantitativo di polvere bianca. All'interno di un contenitore che trasportava bobbine di carta proveniente da Sant'Antonio in Cile, e dopo aver effettuato uno scalo a Panama e diretto a Livorno, sono stati rinvenuti tre borsoni al cui interno sono stati stipati 100 panetti di cocaina, per un totale che supera i 115 kg di sostanza stupefacente purissima. I 100 panetti nelle mani dei criminali, tagliati anche fino a quattro volte prima di essere immessi sul mercato, ad un prezzo che oscilla dai 50 ai 100 euro al grammo, avrebbero fruttato ben 23 milioni di euro alle organizzazioni criminali e in particolar modo all'Andrangheta. La sinergia tra Guardia di Finanza ed l'Agenzia delle Dogane, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica e della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, resta quindi costante, sempre tesa a contrastare un fenomeno che affligge purtroppo non solo le fasce di popolazione più giovani, ma anche una platea molto più vasta.